La Lega di Delo La vittoria sui persiani aumentò il prestigio di Atene che si pose alla guida della Lega di Delo, un'alleanza delle poleis di mare che dovevano contribuire alla difesa comune fornendo navi o tributi. Lo scontro tra democratici e conservatori Ad Atene si opponevano due fazioni, i democratici di Temistocle, che rappresentava i ceti meno abbienti della città, e i conservatori di Cimone, espressione dell'aristocrazia e dei contadini agiati. Temistocle mirava all'espansione di Atene e vedeva in Sparta una rivale. Fece costruire le lunghe mura che garantivano l'accesso al mare anche in caso di assedio. Cimone sosteneva una politica di alleanza tra le poleis in vista di una guerra con i persiani. Prevalse la posizione di Cimone, acclamato per aver distrutto la flotta persiana in qualità di capo militare della Lega di Delo. Temistocle venne allontanato dalla città. La fine di Cimone Sparta, rasa al suolo da un terremoto e colpita dalla rivolta degli Iloti, chiese aiuto ad Atene. Gli inviati di Atene, sospettati di aver stabilito relazioni con gli insorti, vennero rispediti in patria. I democratici imputarono a Cimone questa umiliazione e lo ostracizzarono. La sconfitta dei conservatori favorì l'ascesa dei democratici che posero Pericle al governo della città. L'età di Pericle Pericle introdusse tre riforme per attribuire più potere al Demos. L'accesso per sorteggio di tutti i cittadini a tutte le cariche pubbliche. La retribuzione giornaliera per chi occupava una carica pubblica. La cittadinanza solo a chi aveva i genitori ateniesi. Grazie 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 Grazie